Siamo qui, è un'occasione simpatica per esprimere la nostra solidarietà. Io sono stato nominato, io da professore Bruschetta, e anch'io da professore Bruschetta. E io nomino invece il dottore Tessitore, che è il direttore del carcere di Messina, e tutti i medici dell'ospedale militare di Messina. Io nomino due colleghi universitari, il professor Giuseppe Cervino e la professoressa Rosa Mussolini. E vive infine il dottore Biagio Bonfiglio, dell'architurgia di Frustralia. Bene, allora l'acqua deve essere ben ghiacciata, ma non solo la mia, anche la nostra. Quella del professore, che ce ne ha fuori. Il presidente, il presidente, a voi, a voi. Attenzione, devo... E' una cosa, mi prego, mi fa... Grazie, stavo bellissimo.